Io credo che questo sia un tema che va correttamente mantenuto all'interno degli argomenti generali di revisione della legislazione del lavoro nel nostro Paese. Noi abbiamo utilizzato lo strumento della legge della delega e ci siamo assunti l'impegno di scrivere il nuovo codice semplificato del lavoro nel nostro Paese in sei mesi. Siccome noi non possiamo, secondo me abbiamo già fatto tanti danni onestamente, sbagliando a fissare un unico punto quando invece lavoriamo in contesti molto complessi dove l'efficacia e l'efficienza di una norma è figlio dell'equilibrio delle sue parti. Quindi io non discuto dell'articolo 18 se non all'interno di un ragionamento generale che è quello che ho descritto.